Dottoressa Letizia Moratti, Presidente della RAI durante il primo governo Berlusconi, Ministro durante gli esecutivi secondo e terzo del Cavaliere, oggi ci lascia 86 anni, qual è il suo ricordo? Il Presidente Berlusconi è stata una persona che ha innovato nell'economia, nello sport, nella politica. Ha inventato dal nulla un partito che è stato ed è la casa dei liberali, dei popolari, dei socialisti. Rimarrà nella storia del nostro paese e sono convinta che anche i suoi detrattori dovranno rivedere il giudizio politico su Berlusconi. È una persona di grande levatura internazionale, una persona che ha dato alla storia politica del nostro paese una svolta e ha creato un grande cambiamento. Io di Berlusconi amico ricordo davvero la grande generosità e anche la grande simpatia. Ricordo che quando facevamo le riunioni anche politiche e istituzionali importanti, Silvio amava finire cantando una canzone e cantava benissimo. Poi ricordo quando con orgoglio mi faceva vedere i fiori e le piante del suo giardino. Era appassionato della natura, quindi è una persona che anche in questo mostrava una grande sensibilità.